Liliana Resinovic è morta per soffocamento e la data del decesso è ragionevolmente inquadrabile tra le 48 e le 60 ore prima del ritrovamento risalente al 5 gennaio scorso. È stato depositato il documento a firma del medico legale Fulvio Costantinides e del radiologo Fabio Cavalli. La perizia ricalca sostanzialmente quella della bozza che era stata fatta circolare nei mesi scorsi. Dunque Liliana si è suicidata. Il cadavere non presenta evidenti lesioni traumatiche come possibile causa o con causa della morte si legge nel documento con assenza per esempio di solchi ed emorragie al collo senza lesioni da difesa con vesti del tutto integre senza chiara evidenza di terzi. Gli aspetti cadaverici macro e microscopici conclude il testo suggeriscono una morte asfittica tipo spazio confinato senza importanti legature o emorragie presenti al collo. Insomma tutti gli indizi quelli noti ufficiali si intende suggerirebbero che il caso vada verso l'archiviazione. Dunque la procura è un bivio. Archiviare il caso per suicidio oppure come gli stessi uffici comunicano valutare se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività investigative per non lasciare nulla d'intentato e per far piena luce sull'episodio. Perciò la stessa procura di Trieste ammette che il caso, le circostanze e le dinamiche in campo sono talmente di difficile lettura che non si vuole lasciare nulla di indeterminato ma serve oltre ogni ragionevole dubbio stabilire se davvero la 63enne di via Verrocchio si sia tolta la vita. Ma sussistono due emergenze prioritarie che il procuratore capo Antonio De Nicolo ha voluto sottolineare rispetto alla trattazione di procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari. La prima l'imminente entrata in vigore di una riforma penale processuale le cui forme epocali esigerebbero un adeguato tempo di riflessione. Infine le carenze d'organico di magistrati che si traducono in un aumento degli impegni d'udienza da parte di tutti i sostituti procuratori e dunque comportano l'impossibilità di dedicare a tutti i fascicoli pendenti nella fase delle indagini il tempo necessario per concluderli nei termini scanditi dalla legge.